Ciao, mando un bacio grande così a tutti i miei bimbi della sezione verdi. Oggi spunto da dietro un cespo di insalata, eccolo qua, guardate com'è grande, pieno di foglie. Perché vi voglio fare una domanda? State aiutando in questi giorni la mamma e il papà a preparare da mangiare, ad apparecchiare la tavola, a prendere le cose che servono, a fare un po' di pulizia, di sistemazione dei giochi. Mi raccomando, fatelo, perché è importante che vi mettiate alla prova, anche così piccolini. Allora, se ancora non ci avete pensato, vi do io qualche idea, qualche spunto di attività pratica che potete fare insieme alla mamma e al papà. Mi raccomando, un bacione e vi voglio bene. Ciao! Il gesto di spezzettare, lo possiamo far fare ai nostri bimbi con l'insalata. Chiediamo di fare questo gesto, glielo facciamo vedere. Possiamo farlo così, oppure per esempio prendendo delle erbe aromatiche. Io ho qui del rosmarino, anche questo può essere spezzettato. Così. Setacciamo la farina da una ciotola all'altra. Lo possiamo far fare con le mani, oppure con l'uso di un cucchiaio, in questo modo. Ecco. Se dobbiamo preparare un impasto, predisponiamo già gli ingredienti suddivisi e pesati, di modo che il bambino li può prendere e travasare nel recipiente più grande. Poi può mescolare ovviamente con le mani, oppure con l'uso di un cucchiaio. Al lavandino, oppure in un recipiente abbastanza capiente, mettiamo un pochino di acqua e facciamo lavare ai bambini le cose che ci servono per il pranzo, utilizzando una spugna oppure uno spazzolino. Lo facciamo in questo modo. Chiediamo ai nostri bimbi di provare a fare la spremuta d'arancia. È un gesto un po' difficile, ma comunque possiamo chiedergli di aiutarci. E poi anche questo gesto lo facciamo fare a loro, quello di mettere il succo in un bicchiere. Abbiamo bisogno di fare il purè, allora ci facciamo aiutare dai nostri bimbi a schiacciare con una forchetta le patate cotte oppure qualsiasi altra verdura cotta. Se ci viene voglia di uova sode, chiediamo ai bimbi, dopo averle cotte, di sgusciarle da soli. È un gesto molto divertente. Prepariamo una tazzina con poca marmellata e facciamo provare i bimbi a spalmare la marmellata sopra con un cucchiaino. Guardate cosa mi sono preparata. Una spremuta d'arancia e una fetta biscottata con la marmellata di fragole. Buona merenda anche a voi. Ciao!